Scusi, stavo vedendo se potevo rubare una macchina, non ho visto che stava dentro, scusi. Attento perché grattano da morire le macchine qui, anche nella ridente Poggio Franco grattano un sacco di macchine, le rubano, chiedo scusa ancora, volevo fare la fiction, ne stava lei in macchina, scusi. Devo parlare? Sei veramente un pezzo. Tutto vero, tutto vero. E poi dice all'altro, guarda, non si vede niente, è inutile, vedi, tu col faretto, scusa. No, adesso lo dobbiamo fare, come si spesa, scusa. Spendilo. Ma che cosa vedi? Stai volendo. Che non si vede niente, è inutile che fai il granasso, non si vede, ora si vede. Sei un pirna per essere pirna, direttore. Ah, 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 ah. Qua siamo più scendati, sono più scendati. È vero, questo è, uh, ah, ah, ah. Dai, facciamo seriamente, dai. Che vuole? Che vuole? Dai, la chiave, la chiave. Aspetta, no, non lasciati macchina. Non lasciati macchina. Non lasciati macchina. Occhio, ragazzi, perché... Sei pezzato ancora a quello, non riesco a togliervelo dalla testa. Io ho aperto la macchina. Uh, non so se riuscire a farlo mai questo pezzo. Ma sai che lo dobbiamo fare in un'altra maniera. In un'altra maniera perché se ho... Ma ho in bacchina... Se la faccio, aiuto, aiuto. Ma non pirna così, pirna con la P maiuscola. Vabbè, allora, da questo momento... Sì, sì. Ti ho appicchiato buona gighi, che devi fare più? Da questo momento, male. Sì, vale, vale. Allora che vuoi fare? Allora, proviamo? Eh, vediamo, andiamo. Rifacciamo. Allora, spegni la clip. Vai.